Credo che questa iniziativa sia stata molto opportuna e necessaria e credo che sia un'iniziativa per certi aspetti poco propagandistica, poco elettoralistica e molto più di carattere politico. Io credo che questa iniziativa sia stata molto opportuna per tre ragioni fondamentali. La prima ragione perché io sono convinto che il sostegno alla candidatura di Guido Podestà a presidente della provincia di Milano non dovesse venire soltanto dai leader del popolo della libertà, da Berlusconi, da Bossi, da altri che domani saranno qui a Milano, ma sono convinto che il sostegno personale, politico a Guido Podestà dovesse venire anche dalla classe dirigente del partito, del popolo della libertà, una parte della quale è rappresentata questa sera a Milano. Perché qui a Milano, al comune, alla provincia, alla regione, qui a Milano sono le radici nostre, le radici politiche prima di Forza Italia e poi del popolo della libertà. Qui sono le nostre radici più autentiche dal punto di vista politico e qui a Milano, in Lombardia, c'è il banco di prova più importante della nostra capacità di buona amministrazione, di buon governo che offriamo all'intero paese. E sono sicuro, siamo sicuri che Guido Podestà dimostrerà alla guida della provincia questa capacità di buona amministrazione, di buon governo che dalla Lombardia giunge a tutte le parti d'Italia.